Un caro saluto da Mario Giuliacci, il tempo previsto per venerdì 1 dicembre. Innanzitutto vi ricordiamo che il 1 dicembre inizia dal punto di vista climatico l'inverno, quindi da non confondere con l'inverno astronomico che invece inizia intorno al 21-22 dicembre. Ciò detto vediamo che tempo farà venerdì. Bene, la perturbazione giunta nella giornata di giovedì porterà ancora piogge al nord, piogge che saranno abbondante, sollevante e ligure, deboli e nevicate sulle Alpi fino a quote alquanto basse, massimi intorno a 7-10 gradi sul nord Italia, dove quindi farà ancora freddo, invece 15-20 gradi al centro-sud, come dire che siamo di gran lunga, di sopra della meglia. Questa perturbazione che venerdì interesserà l'Italia è seguita da aria fredda polare che poi nella prossima settimana potrebbe dar luogo a eventi nevosi fino a quote molto basse.